Salve a tutti quanti, io sono Trenas e benvenuti a quello che è il video introduttorio al nuovo campione in arrivo che arriverà domani ragazzi Disponibile su server live, non so ancora quale orario, dovrebbe essere comunque domani, nel caso al massimo si dovrà aspettare qualche giorno o due Ma, signori e signori, la parte 10.1 è domani Iniziano i ranked, se volete iniziare i ranked bene, vi ricordo che ce ne sono i gettoni del Twitch Prime Che potete andare a riscattare sul sito di Twitch per avere delle skin gratis o anche dei nuovi aspetti per la vostra mini leggenda se giocate a TFT Ma andiamo a parlare un pochino di questo set Set è il classico campione che tu guardi e pensi, ma proprio sicuro al 100% Bene, questo campione è ignorante, è un Darius, è un Garen, è un Chogat, è quel classico campione molto semplice, molto efficace Che non sai che cosa fare? Pugno sulla tastiera, qualcosa funzionerà Io lo dico scherzando, ma l'idea di fondo di questo campione è proprio questa È quella di dare accesso a chi vuole giocare top lane Ha un campione abbastanza facile da capire e comprendere Dandoti modo però di poterlo giocare con tranquillità Che non hai paura di fare cavolate Che non sarà quello il tuo problema Non farai cavolate Allora, partiamo dal suo kit di base che è la cosa proprio più semplice in assoluto Passiva Passiva ha due porzioni Una che è molto più semplice che andiamo a spiegare E poi quella un pochino più complessa La più semplice è questa Set ottiene rigenerazione vita per ogni 5% di vita mancante Cosa significa? Più è basso in salute e più HP si rigenera Davvero niente di complicato È fatto apposta perché così puoi continuare a allenare durante la fase di corsia Stare tranquillo, sottotorre un attimo Rigenerarti un pochino Come i Garen Garen ha una passiva molto simile a livello meccanico Ma quella di Garen ha un pochino più di impatto Ti rigenera molto più in fretta Quella di Set invece funziona anche durante i trade Funziona tutto il tempo attiva Quindi è un modo interessante per dare sustain al campione Che non ne ha altrimenti all'interno del suo kit Sta buono Rift Herald e non rompere le palle La seconda parte della passiva è invece un pochino più complessa Gli attacchi base di Set si alternano tra pugno sinistro e pugno destro E cominciano sempre dal pugno sinistro L'attack speed aumenta la velocità di entrambi i pugni Ok? Qual è la differenza tra i due pugni? Il pugno sinistro fa sempre danno normale Ok? Non è mancino Il pugno a destra invece esce un pochino più velocemente E fa un danno in più Semplicemente fa del danno in più Che scala con i livelli Infatti potete vedere che il numero è bianco Qua direttamente dove è rappresentato Più uno scaling con l'attacco fisico Quindi uno scaling con l'attacco fisico Già rende chiaro e tondo Questo campione vuole della digrezza Ma vuol dire che questo campione favorisce i trade In cui si va a sfruttare Una delle sue spell di base Che è la Q In modo da poter resettare l'autoattacco E sfruttare sia il pugno destro Che il pugno sinistro Così da massimizzare il DPS Che riesce a tirare fuori da questo campione Allora Che cosa fa la Q? Perché ho parlato della Q adesso La Q è molto importante Set ottiene il 30% di movimento per un secondo e mezzo Quando si muove verso i campioni nemici Che cosa significa questo? Se io mi muovo in questa direzione Io non ottengo movement speed Se io mi muovo verso un campione Invece ottengo tanta movement speed Veramente 30% non è qualcosa da sottovalutare ragazzi Di nuovo 385 quando carmino di qua 480 quando cammino verso il nemico Questo ovviamente è Quando sono i boots livello 2 La spell a livello massimo Capiamoci un pochino Quindi Forte sì In corsia sarà molto efficace Per chiudere le distanze Soprattutto contro campioni mobili Vedi tipo Chogat Darius Garen Capite l'andazzo? Questo è un campione che vuole stare corpo a corpo Contro campioni che non hanno tanta mobilità Non è fatto per giocare contro Riven Contro Aatrox Contro Fiora Contro Irelia Questo è fatto per picchiare Cose che stanno ferme Cose che non hanno modi per sfuggire Molto Basilarmente Ma non ti dà soltanto No movement speed Ti dà anche un potenziamento Sui tuoi prossimi due autoattacchi I prossimi due autoattacchi Fanno 50 danni base in più Più Il 5% Il 3,6% Della vita massima del bersaglio Che è il 5% di base E il 3,6% Che dipende da quanto attack damage tu hai Quindi Questo è come appare Normalmente Il pugno di set Molto semplice Molto efficace Hai due pugni Però nel momento in cui tu Cominci a fare i pugni con la Q Hai proprio questa animazione Questo POM 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 Sono due pugni potenziati E una volta che li hai utilizzati I pugni Finita là Non c'è niente di più all'effetto della spell Molto semplice Molto efficace Contro i mostri è massimo di 400 danni sul pugno E vorrei anche ben vedere Quindi qualcuno può pensare che potrebbe essere un jungler Considerato che ha soltanto danno sul singolo bersaglio Non è proprio il massimo come jungler Secondo me Più che altro perché Arrivi in corsia Ma se manchi la tua è bene La tua canca è finita Non hai niente da fare Sei come lì Cioè lanci la Q La manchi Sei tipo Merda Non posso fare niente A meno che non sei a livello 6 Allora magari puoi fare Salto di dietro all'avversario Insec Ma con set Non hai neanche questa possibilità Quindi Q Fatta apposta Per ingaggiare Non per fuggire Puoi soltanto ingaggiare con questo spell Non puoi fuggire Assolutamente Arriviamo alla W La W è un pochino più complicata come spell Perché richiede un minimo di sforzo e ragionamento in più Passivamente Set Stores In canala Ti trattiene il 100% del danno preso come grinta Fino ad un massimo di 2141 in questo caso Che è il 50% della vita massima Di set La grinta decade velocemente durante 4 secondi Dopo aver preso il danno Cosa ti serve questa grinta? Perché sembra Che poi forse probabilmente grinta è anche sbagliato Ma attualmente non mi viene in mente la traduzione Quindi sarà grinta per me Attiva Set Carica un pugno gigante in una direzione Spendendo tutta la sua grinta Facendo 230 230 Più 25% Più 26% Per lo scaling dell'attack damage Della grinta spesa Come danno puro A tutti i nemici nella linea centrale I nemici non al centro Nella linea centrale Prendono danno fisico Quindi come potete vedere Facciamolo Facciamolo vedere a modo con l'indicatore Come potete vedere c'è questo indicatore Che vi fa vedere Chiaro e tondo La linea è danno puro Tutto il resto è danno fisico Ora Proviamo a caricarci un attimo Con il danno Giusto per avere più grinta possibile Ok Quindi continuo a caricarlo Continuo a caricarlo Continuo a prendere danno Continuo a prendere danno Che è molto più veloce in un fight Sia ben chiaro E poi Quando tiro il pugno Io ho uno scudo anche Io ho anche uno scudo In tutto ciò Equivale al tutto La grinta che ho speso E dura tre secondi Quello scudo Non è qualcosa da sottolotare Considerando che comunque Ci mette del tempo A canalizzare il pugno Quindi quel tre secondi di scudo Sei immobile Ti possono picchiare facilmente Ma almeno ti dà il tempo necessario Per tirarlo quel pugno Il che secondo me È molto importante E la differenza tra un bravo set E un set scarso Sarà molto semplice Un set scarso Utilizzerà subito la W Un set bravo Aspetterà fino al momento perfetto Per tirare la W Andiamo avanti Andiamo avanti Con il suo kit La E Anche qua Torniamo a una spell Molto semplice Molto efficace Set prende due campioni O due avversari Che sono sul fianco Sono sul suo fianco E Gli sbatte la testa Uno contro l'altro Molto basic Nel momento in cui Li prende Li rallenta del 50% Per mezzo secondo Se prende un nemico Per lato Invece Li stunna Per un secondo In totale Quindi Se io li prendo così Sono stunnati Non è niente di complesso C'è da notare una cosa però Io prendo tutti i nemici Non ne prendo soltanto Uno per lato Quindi Proviamo a metterli Ordinati per benino Quindi se io prendo Uno Due Uno Due Eccoli qua E li unisco tutti insieme Sono tutti stunnati In un fight È possibile Che questo succeda Devi avere un position Positioning perfetto Ma il tuo scopo principale Durante la fase di corsia È farlo con un minion E il campione avversario E quindi puoi stunnare Il tuo diretto avversario Stando in mezzo All'ondata di minion Ironicamente Stare in mezzo All'ondata di minion Per set È un trade favorevole Perché riesci Non solo a caricare Le aimaker più in fretta Ma anche a piazzare Un facebreaker facilmente Quindi è molto 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 importante Fare Dei trade Nel momento in cui sei Al centro della corsia In primis E poi Metterti Mezzo I minion Per sfruttare Il facebreaker Stunnarlo E magari puoi tirare La tua W di conseguenza Quando hai già preso Del danno Dal tuo diretto avversario Arriviamo a quello che Penso sia la cosa Più ignorante In assoluto Ma proprio Più ignorante In assoluto Sta buono te Nessuno ti caga Di striscio Lo showstopper La sua suprema Set Prende un campione Nemico Li trascina In avanti E poi Li butta giù Per terra È letteralmente Una mossa A wrestling Non sto scherzando È letteralmente Una mossa A wrestling Tutti i nemici Prendono 400 danni Più 235 Che è lo scaling Con l'attacco fisico Più il 60% Della vita Del nemico Vita bonus Del nemico Che hai preso Quindi se tu prendi Un Chogat Se tu prendi Un Darius Se tu prendi Un Un Nautilus Un Maokai Roba che prende Tanti HP Una sejuanito Puoi fare una marea Di danno Sul team avversario E Quando colpisci I nemici Sono rallentati Il 99% Per un secondo e mezzo I nemici Prendono meno danno Dipendentemente Da dove Atterra Set Con Il suo bersaglio Trascinato Allora Questa era di nuovo La W Giusto per ricordarvi A tutti Come funziona Questa è l'area Della R Come funziona la R La R segue La logica di Io sono in questa posizione L'avversario è in questa posizione Quindi andrò Seguendo una linea retta In questa direzione Molto Molto basilare A livello di ignoranza Come potete vedere Dipendentemente Da dove Io parto Lui la lancia No 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 Rift Herald Non volevo farti arrabbiare No ok Ok Togliamo dalle Togliamo dalle palle Rift Herald Ok Stai zitto Maledetto Rift Herald Tornando al discorso Tornando al discorso Quindi Se io voglio Lanciarlo In quella direzione Io devo posizionarmi Correttamente E Di conseguenza Lanciarlo Colpendo tutti quanti Insieme Quindi non è che sia Troppo complicato Ma c'è da considerare Una cosa Non puoi selezionare La distanza di lancio Mai Non puoi mai Selezionare la distanza di lancio Puoi solo selezionare La direzione Posizionandoti Correttamente Cioè È questa La limitazione Enorme Della Suprema di set La Suprema di set È fighissima L'idea di fondo È geniale Ma c'è un problema Gigante In mezzo Il fatto che Tu devi Posizionarti Correttamente E l'avversario Continua a muoversi Nel mentre A meno che Sia un avversario Stunnato L'avversario Può continuare A muoversi Uno può Continuare a posizionarsi In modo che Non hai mai Un angolo corretto Per piazzare la Suprema Non è così facile Da utilizzare È potentissima Se usata correttamente Ma il potenziale Di playmaking Non è totalmente Cioè È molto più piccolo Di quello Che la gente pensa Cioè voglio proprio Cercare di Ragazzi Stiamo calmi Con queste aspettative Nei confronti di set Sì È veramente figa L'idea Sì È veramente figo Come hanno fatto il kit Ha un enorme potenziale Nascosto Non sopravvalutatelo Per quanto Faccia letteralmente Una serie di mosse Diverse Dipendentemente Da come lo prendi È fantastico Questo è fantastico Il fatto che Abbiamo proprio Preso 500 mosse Di wrestling Hanno detto Fan cool Le mettiamo tutte Dentro nella Suprema Di set Allo stesso tempo Sei qua che guardi E dici Ok Quindi Quindi è un campione Che è caitabile È un campione Che ha dei cooldown E non si basa sul mano Almeno questo Ha dei cooldown Non troppo grandi Quando hai tanta Cooldown reduction Quindi si dipende Molto dalla Cooldown reduction Ma con cosa Lo giochi Lo giochi Con il conquistatore Lo giochi Con il press di attack Lo giochi Con la presa Dell'immortale È anche questo Problematico Perché Non c'è una runa Che sembra sbagliata Di per sé Attualmente Il conquistatore Sembra la scelta Più efficace Perché Cerca trade Prolungati Set Visto che vuole Utilizzare il suo Haymaker Allo stesso tempo La presa dell'immortale Gli darebbe più sustain In fase di corsia Visto che la passiva Non è sufficiente Per il sustain In fase di corsia Il press di attack È molto forte Nel momento in cui Cerchi un trade Veloce Contro il tuo diretto Avversario Ma con set Vuoi cercare Dei trade veloci Sì come no In alcuni casi Vuoi cercarli veloci In alcuni casi Vuoi cercarli Più prolungati E quindi ti riporta Al conquistatore O alla presa Dell'immortale Penso che sarà Uno di quei campioni Che inizialmente Avrà Un win rate Medio Perché Chi lo giocherà Lo saprà giocare Molto in fretta E chi non saprà Giocarci contro Perderà molto facilmente Allo stesso tempo Una volta Che la gente Capisce Che cosa fa Diventa Un campione Facile a gestire Un campione Molto semplice Da gestire Poi senza contare Che c'è anche Da parlare Di quelle che sono Le possibilità A livello offensivo Perché Una danza della morte Anche la Trinity Già la scelta Tra Trinity Force E Black Cleaver È difficile Perché La Trinity Force Ti darebbe un attacco potenziato Ti dà molto più danno Nel tuo lungo tempo Ti dà velocità D'attacco Con cui scala la passiva Ma la Black Cleaver Ti dà riduzione armatura E tutto il tuo danno è fisico Quindi lo sfrutteresti bene Sono piccole ottimizzazioni Che andranno a fare differenza Il pegno di Sterak È fondamentale Questo sono Sono convintissimo Nel fatto che sia Un oggetto fondamentale Per set E penso che Anche un'idra titanica Sarà vista molto spesso A livello di itemizzazione Poi È probabile Che si veda Una Dead Man's Plate È probabile Che si veda Una Speedy Visage Meno Piuttosto Se devi andare Per un oggetto Di resistenza magica Di oggetti Ce ne sono Nel modo attivo Spesso ti ritorna Più utile Di recente La Wormog La usi Ad una condizione Che il grosso Del tuo lavoro Lo vuoi basare Sulla tua W Che dire Set è un campione Veramente 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 figo Non so però Quanto Quanto verrà utilizzato A livello competitivo Perché Il potenziale È sì enorme Però Allo stesso tempo Ha tanti limiti Al suo interno Che dire Io direi di finire così Ragazzi Io vi auguro Una buona giocata Con set Nel momento in cui Sarete in grado Di giocarlo E Ci vediamo stasera Per le patch notes Bella ragazzi